Finisce, dopo 11 anni, una delle storie d'amore più celebri del mondo dello showbeats. L'attrice Gwyneth Paltrow e il leader dei Coldplay, Chris Martin, hanno pubblicamente annunciato la loro separazione e lo hanno fatto in prima persona, con un post scritto e diffuso su Goop, il sito di Lifestyle fondato da Gwyneth. A dimostrazione che la curiosità è tutto sommato piuttosto diffusa, il sito in pochissimo tempo è andato in tilt, sommerso dalle visite di chi sicuramente voleva saperne qualcosa di più sulla rottura di una delle coppie VIP all'apparenza più solide. Il post, dal titolo Separazione Consapevole, è firmato sia da Gwyneth che da Chris e spiega le ragioni della loro decisione. Sul blog si legge Abbiamo deciso di separarci con i cuori pieni di tristezza. Abbiamo lavorato duramente per oltre un anno, a volte insieme, a volte separati, per capire cosa fosse possibile fare per noi e siamo arrivati alla conclusione che anche se ci amiamo moltissimo ci separeremo. Ad ogni modo, continua il post, siamo e saremo sempre una famiglia e in molti modi siamo più uniti di quanto siamo mai stati. Siamo in primo luogo e principalmente genitori di due bambini incredibilmente meravigliosi e chiediamo per il loro e per il nostro spazio e privacy di essere rispettati in questo momento difficile. La nostra relazione è stata sempre privata e speriamo che, dato che la separazione è consapevole e che siamo genitori, saremo capaci di continuare su questa strada.